musica chi ti ha il problema? perchè tu parla di far controllo chi ti ha il problema? se ti mancete? ti è abituato? come una cartellinata di domenica di 50 anni dico ne appiccino a piccino a piccino a piccino ti ha fatto una botta che ti metto se ti metto ma se ti metto la casa io stai a piccino da piccino e ci tagli che ne sa? ci tagli solamente fraschi ma io vedi per un anno ci tagli solo fraschi ma perchè i soldi io ero 69 no per un anno non mi scemi ma i soldi e di domenica rimani, sei il mio ma ti fai il mio ma ti ricevo la macchina tu sei capicciato e tu con questo tu sei capicciato ma tu rimani quando sarà quando sei andata tanto tu vieni sette giorni e poi io lo dico sempre che su qualsiasi cosa che sei garantito metti i pillolini guardami tu qua io tu vanno mettiamo le garanzine 3 anni perchè? beh vieni ancora la giugna ma tu stai appazzendo? eh e tu vuoi appazzendo? no grazie Dio non ce l'ha visto anche io forse due no vuole giocare a Francesco no Francesco no Francesco voleva giocare e Gabriele ci dice mi dice che voleva giocare mi dice che voleva giocare no mi tu non puoi giocare è una specie di tu ci stai qua a panico che hai dormito con lui è una cosa che è una cosa lì ma io mi dico che andavo a dormire ho perso stampe ma stamattina erano le due oggi pure se non ci sono mettiamo in casa lì non lo puoi pulire perchè non è in dorme è quasi quasi un'altra a dorme per la propria piccola io dalla città domani non c'è ma non c'è più a trovare un po' un divano è cominciata la lagna a una lì e c'è chi non può se vuole la sa io non la c'è attaccato poi c'è un po' da giugno è una lagna 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 allora è una lagna è una lagna è una lagna è una lagna ma io non capisco cioè mi sono postati un quarto l'ora qui e si batte e no ma poi mi fanno male le scarpe è un po' è un po' è un po' il baracchetto è un po' il mio luogo è un po' ma è una lagna poi è arrivato a una gara a un certo ora sta andando io so come facendo a casa è un po' calma non so se ne... è un po' di tuttina eh? si ma metti alle acquisioni abbiamo delle cose abbiamo delle cose che cosa? è delle cose è delle cose e si la compro la compro servisci alla proleggia la proleggia è possibile la proleggia è possibile se stagli il segno diametro 24 se mi prendo la capa che stanno messe alla proleggia se stagli se stagli la proleggia è così diametro 24 quando stagli a fare altre cose? rimane rimane che lo rimane che ora? che ora? facciamo con la lampadina se ci vede viene il pomeriggio con la scusa non lo va a girare il pomeriggio non lo va a girare non lo va a girare il pomeriggio non lo va a girare il pomeriggio e che è? si è affilato che cosa? che si è affilato che si è affilato non lo va a girare la sbarra non lo va a girare praniamo non lo va a girare se si è affilato ma li stavi a girare dole avanti si è affilato che si tratta la porta non lo va a girare e si tratta è per gas ma no, come tira la barattina? si si, è per un po' ma così la si mette un po' si 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 parla stile si parla stile, come te? si parla stile, come te? si parla stile la spalla è la no, è la stile è un angioretto l'anno scorso ci troviamo a DiCapito, la Fidimonte tenevi il nuovo vestito l'anno scorso in carbonio eh, l'anno scorso l'anno scorso ne stanno avendo sai perché? perché si mettono la malla e si mettono la malla e si mettono la malla no, no, no quelli erano il nuovo vestito però uno piccolo, uno 30 uno 30? si parla di 180 è un po' ma si parla quello che la manca l'anno scorso si si, non voglio averla perché si spiega il guarno tutto il giorno tutte cose però con l'anno scorso ci vengono a mettere in commercio perché l'anno scorso non è ancora più perché l'anno scorso perché l'anno scorso è in carbonio ma non si parla mai l'anno scorso invece l'anno scorso non è ancora più ma non è ancora più invece quello che quando vi viene a posta se lo trova non è soltanto che le fiere 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 in carbonio che la lama ha chiamato la lama con tutta la guida la scorso tu sei si e vuoi venire il tuo il tuo il tuo il tuo il tuo il mio il mio il mio dice la zia che si ha perso chiude le barracalte io vado e mi però quando trasi chiudi la porta tiene tutti 1 euro e 2 euro ritorisci a zio che gli dai le fiere i spicci si che che chiudere che ci chiudere è che ci e che 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 è l'anima l'anima che pulizzo per candele all'interno, e chi li ha fatto, a volte è stato facendo quella cosa io mi pensavo che se non è retta, io faccio i padrettini, prendo il picone, facendo tutti i libri, a volte c'è la mano è andata poco, se ti chiede una mezza giornata ma la mia c'è la città è stata sboccava, ma c'è la prima volta, che cazzo te ne f***a a te si è seccata, toglie le foglie, le foglie può essere pericoloso perché tu la c'è passi tagli tutto quanto, rimanendo su, ma c'è la giornata la giornata, ma qual è la frutta che io? la tagliate a metà, pigliate a basso, pigliate a tonine, ma per tonine, la pigliate, la c'è fa una parte a somma, scavate tutti i euro, però scavate trovi, c'è un'altra parte più scappate, e non c'è come scegliata, però con vigore, la allargata non poco perché se no potete ve li ritrati all'attaccavi su quello che non strappavo, e quello che non avvicinavo tutta così, non l'ha mai dire, non l'ha mai dire, non lo so che sta tirando, quando c'è l'attacca da a sud, che non era il lo secchio, non si parla ragazzi, ma chi c'è c'è l'uomo? ma con quale hai tante di occhi a un bó? c'è davvero un po' un tanto cavallo un tanto cavallo che fai un tanto cavallo che fai un po' che fai un po' se fai un po' no, lì è 60 cavalli è come 603, voi fai un cavallo per 10 anni può essere pure un burro sacro per 10 anni non dà giù niente al borsa è così che è un grattore quando chissi dai 40 anni che vuole da dire? che vuole da dire? ma che vuole da dire? ma che vuole da dire? allora c'è la gomme è due storie perché va a cagnare il gomme? come lui? ci poteva cagare le piede a due assunti, sei la due piccola perché ci potevano la gala la terra scappava le rota che li giravano però come giravano e invece là due mesi veniva la coppa cioè la coppa c'è meglio lo attaccavi e là usci andavi subito il tronco che la pomboliera ma la domanda ti tocchi i neri perché quella la cosa se me la paglia le cose non ci arriva tu non hai rimasto il tronco ma è buono ma che vuole? ma è brutto no? rimane un tronco sano però no tra dieci e minici due mesi due mesi si si ma questo è un braccio ma questo è un braccio che era tutto bianco c'era bianco a parte la bianca a parte la fracida con la tagliata sotto c'era poco e poco e niente che era fracido era tutto bianco eeeh eeeh ma io voglio dire una cosa non ho pure la moglie ma forse la casa tua non me la faccio dire ma voglio chiamare Gioana ma non me la faccio dire ma non è casa tua ma che tu nino o zì Carmela ti dice ah ma tu capisci me no? si si tu ma ora lo fai come si deve ci mette proprio soprattutto quando tu non tieni l'attenza che vengono gli altri allora tagli tutte quante le foglie ma quando è quando tagli le palle sul cuo tronco perché si è seccato adesso lui tu lo tronco un po' quando ti puoi con il cuo tronco se trova la casa dino che sa zappalo lì tu lì ci dici 5 minuti che cacchia fanno stu cosa troviamo stu cosa le palle tu mi rimani in un tronco tanto no? ma che tu puoi semplare ma quando è semplare? no non sembra ci dà mo eh stiamo non bici facciamo che c'è un po' che medicina perché la domanda che c'erano che c'erano che c'erano i morti non c'erano che medicina non c'erano la bar ma l'ha giù fatto la medicina che c'erano che c'erano che c'erano che c'erano che c'erano che c'erano ma che c'erano l'uomo ma che c'erano che c'erano che c'erano che c'erano che c'erano che c'erano ma l'anno scorso mi dice perché poi poi spara il nero si fa portare un po' più lungo e poi magari mi sto qui e io ti diciamo se tu lo tu sei che c'erano che c'erano che c'erano che c'erano più leggero giusto per staccare e mi dice che c'erano che c'erano che c'erano se ci Babi si chiama mi dice se pò se c'erano leggero cioè lo vato secco 2 kg e mi dice è tutta plastica tutta plastica tutta plastica apposerà la catena ho posenato la catena in carbonio ma io ho 300 e 80 euro, un 30, più picceri ma io ti faccio più picceri giuro la 50 io per te li puoi mettere la 400 quando è avuto? la 500 no per la 45 45 400? si e ne è la medica per la stima patica 45 a quanto c'è? a quanto c'è ma si, vedi caso che tu hai fatto il tempo non ne vado sotto tu lo metti in bacio eh, ti fai un po' a chiamare ma poi se si fa portare la lega non vado a cammino non vado a cammino non vado a cammino non vado a cammino ma cazzo si mette qui su pomodoseca a chi un po' perci me le voglio stuccare qui eh, tu uno eh, non vado a cammino ma come stai stuccare qui? io non vado a cammino io non vado a cammino non vado a cammino